Non ci sarà Stefano Bandecchi, lo potete anche immaginare dalla mia presenza qua davanti alle telecamere, però questo è L'imprenditore e gli altri, questa è Cusani Italia TV. Buonasera e ben ritrovati al canonico appuntamento del lunedì sera. Non andiamo a salutare il nostro direttore Gianluca Fabi che ha continuato nella sua opera di dissociazione con questa trasmissione per la seconda settimana consecutiva, ma possiamo salutare il magnifico rettore dell'Unicusano, il professor Fabio Fortuna, rettore, buonasera. Buonasera, però adesso devi precisare che non è proprio così per Fabi, poverino. Beh, 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 dai teniamo qualcosa da nascosto che poi magari facciamo spoiler, creiamo quello che i giovani chiamano hype in questa trasmissione, in questo lunedì 11 dicembre. Rettore che è fresco, nel vero senso della parola, di inaugurazione dell'anno accademico. Da stamattina il rettore è impegnato in un grande successo che abbiamo trasmesso anche sulla nostra rete, Cusani Italia TV al canale 122. Rettore, insomma, veramente un grande successo. Beh, insomma, sì, un bel evento. Un bel evento di soddisfazione, un'università che è cresciuta in modo molto rapido, sotto tutti i profili, sia quello della didattica che quello della ricerca, dove abbiamo ottenuto risultati sorprendenti, addirittura primi in Italia ingegneria industriale, voglio ricordarlo, l'ho detto anche questa mattina. Un'università piena di dinamismo che si respira nell'aria e speriamo di farne tante altre con la possibilità di essere soddisfatti come lo siamo stati in questi ultimi anni. Dinamismo quindi è la parola chiave per questo anno accademico. Dinamismo è la parola chiave. Allora, a proposito di dinamismo, non perdiamo altro tempo. Noi abbiamo dedicato ovviamente giustamente in apertura un commento sulla questione. Anna Accademico ha inaugurato questa mattina, ma abbiamo tantissima carne al fuoco. E allora partiamo subito con la nostra copertina di Aurora Vena. La maggioranza resisterà fino alle prossime elezioni politiche. Governeremo l'Italia bene come lo stiamo facendo e mi auguro anche per la legislatura successiva, vista qual è la situazione. Non accettiamo neanche da lontano che questa si dividisca una destra sociale, quando è una destra che sta contribuendo attivamente ad aumentare le diseguaglianze in questo paese. Che faceva della sua coerenza una bandiera. Ma noi non abbiamo visto altro che incoerenza in questo primo anno e mezzo, anni e due mesi del presso di guerra. Penso su tutti all'avvento del commercio elettronico, le grandi piattaforme online. Un'innovazione che la pandemia ha contribuito ad accelerare in modo determinante e che come tutti i cambiamenti, se non è adeguatamente governato, può portare insieme a grandi opportunità anche enormi rischi. E quando chiude il negozio non sta chiudendo solo un'attività economica. Si crea una ferita nello spazio fisico cittadino, si perdono posti di lavoro, si perdono luoghi di aggregazione, luoghi di relazione tra i componenti della nostra comunità. I combustibili fossili dovranno essere eliminati dalle fonti di energia e dai sistemi produttivi. Abbiamo investito risorse significative, riprogrammando i fondi del PNRR attraverso lo strumento Repower You per incrementare la produzione solare e fotovoltaico nel nostro paese, l'energia rinnovabile. Nel contempo dobbiamo utilizzare tutte le opzioni che sono in campo. Dobbiamo avere una visione neutrale nell'uso della tecnologia e quindi anche riprendere la strada nucleare. Questo gesto produttorio non lo compirete in mio nome nel nome del Movimento 5 Stelle. E per questa ragione che ritiro la firma da questo provvedimento perché state facendo carta straccia del salario minimo legale. Siete il lama della politica italiana perché per oltre 12 anni avete sputato continuamente in faccia non soltanto i lavoratori, non soltanto i vostri elettori ma addirittura votando i licenziamenti collettivi. Questa è la sinistra del vostro paese. E allora l'avvento, la conferma, la riconferma dell'e-commerce ma anche la nuova apertura targata Oliver Stone sul nucleare. Ma noi qui questa sera, l'imprenditore e gli altri, partiamo invece dal salario minimo che ha visto, come avete visto nelle immagini di Giuseppe Conte, strappare la proposta di legge, ritirare la firma seguito da buona parte delle opposizioni. Allora partiamo salutando inizialmente qua in studio la segretaria nazionale della FIOM CGL Barbara Tibaldi. Segretaria, buonasera. Buonasera. E in collegamento con noi l'onorevole Naike Gruppioni di Italia Viva. Buonasera onorevole, bentrovata. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera. E l'onorevole Alessandro Cattaneo di Forza Italia. Buonasera onorevole anche a lei. Buonasera, grazie dell'invito. Buonasera. Grazie a lei davvero per essere con noi. Io parto da un suo virgolettato. Ha definito Giuseppe Conte colui che ha fatto uno show per il suo pubblico strappando questa proposta di legge. È davvero stato solamente panem e circenses, come dicevano i latini? Sì, risulta evidente anche dalle immagini che avete fatto vedere. Lui quando fa questi spettacoli non si sta rivolgendo al presidente dell'Aula, ai colleghi parlamentari. Lui sta facendo dei video, degli show buoni per i social, con questi gesti teatrali di strappare il foglio, con queste messe in scena con i cartelli. Ma sarebbe facile dire a Conte che se teneva tanto al salario minimo poteva farlo quando per due volte è stato presidente del Consiglio, con due maggioranze diverse, anche con il PD che oggi inneggia a quel provvedimento, il salario minimo. E poi voglio dire questo con grande chiarezza. Tutti noi che siamo in Aula vogliamo aumentare gli stipendi degli italiani, vogliamo affrontare il problema dei lavoratori cosiddetti poveri. Ci dividiamo sul come farlo. Noi siamo fermamente convinti che il salario minimo possa essere addirittura controproducente. Pensiamo invece che ci siano altre iniziative, e le dico anche nel concreto quali, soprattutto quello di estendere la contrattazione collettiva a quei lavoratori poveri che oggi sono fuori invece dalla contrattazione collettiva e quindi in qualche modo anche fuori dalle tutele del lavoro. Questa è con grande chiarezza la nostra proposta. Mi sorprende quando la sinistra, invece che entrare nel merito di misurarsi su il perché noi abbiamo questa proposta, quali sono le deformazioni che noi vediamo, fanno slogan, fanno questi show. Spiego a casa in 30 secondi perché noi abbiamo paura che con il salario minimo, se noi mettiamo 9 euro come pago oraria, voi sapete oggi quanti sono i contratti? Prendiamo anche il metalmeccanico, c'è in studio l'esponente del metalmeccanico della CGL. Quanti sono i contratti firmati da Confindustria nel settore metalmeccanico sotto i 9 euro? Zero, neanche uno. Non c'è neanche un contratto che è sotto i 9 euro. Allora la sfida è chi è fuori da queste tutele portarlo dentro la contrattazione collettiva. Altrimenti cosa potrebbe succedere? Che se io fisso per 9 euro il salario minimo, alcune aziende metalmeccaniche, che in Italia tante sono anche piccole o piccolissime, alla prossima prima crisi vuoi il caro energia, vuoi l'inflazione, vuoi un caro materiale, potrebbero dire, sapete che c'è, io esco dalla mia contrattazione collettiva e do salario minimo secco, uguale ho diminuito per milioni di lavoratori lo stipendio. Noi non vogliamo questo, vogliamo alzarlo a chi oggi prende troppo poco, ma vogliamo evitare che lo si abbassi ad altri milioni di lavoratori. Allora non posso che non andare dalla segretaria di Badi, insomma mi sembra di trovare, di vedere della concordia anche fra lei e quello che ha detto l'onorevole Cattaneo. Allora, intanto il primo commento va alla sceneggiata, perché per chi come me rappresenta così tanti lavoratori che non arrivano alla terza settimana, la sceneggiata è stata vergognosa e complessiva. Lo dico perché la legge che è stata strappata da alcuni, recepita in parte da altri, poi c'è stata tutta la pantomima per cui il governo dice faccio io una legge delega, gli altri alzano la mano e gli dicono va bene, falla, ma metti che almeno 9 euro deve essere contenuto, allora no. È stata di una tristezza impressionante, partirei da questo, ognuno faccia il suo. Dal messaggio quindi della politica, prima che dal provvedimento. Ognuno faccia il suo. La contrattazione sta in capo alle parti sociali. La contrattazione in questo paese c'è, a volte efficace, come nel caso dei metalmeccanici, che sono un'organizzazione, una categoria molto forte, molto organizzata, perché sapete, mi rivolgo al Parlamento. La differenza tra fare una legge in Parlamento e fare contrattazione è che per fare contrattazione due parti si devono sedere. Primo, devono essere disponibili a farlo. Secondo, partono da idee contrapposte. In genere le aziende vogliono dare il meno possibile e noi chiediamo tanti soldi in più. Perché? Perché siamo tutti consapevoli che negli ultimi tre anni sono successe cose straordinarie. La guerra, l'inflazione, l'aumento dei consumi. Ogni lavoratore salariato può contare tra i due e trecento euro in meno tra quanto gli è aumentato il mutuo, quanto gli costa di più fare la spesa, quanto gli è costato un'inflazione che oggi si ferma, ma si ferma dove era arrivata. Allora, serve lavorare insieme. Da cosa buona della legge che al momento avete cestinato, poi non importa chi l'ha firmata, avete cestinato l'ipotesi che il Parlamento di questo paese e facesse un'operazione, affiancasse un'alleanza, dicesse in capo i sindacati, che devono essere però poi misurati, devono essere quelli maggiormente rappresentativi, come voi venite misurate alle elezioni. Accanto a quella contrattazione che decide ben di più dalla pago oraria, io intervengo come politica, perché c'è un interesse generale a far sì che le persone possano vivere dignitosamente e ti dico, guarda, fai il tuo mestiere, voi parti, incortratevi, ma sotto questo non è dignità, perché 9 euro lordi sono 1200 euro netti al mese. E lo stesso presidente Locnell, che da un lato dichiara che non serve, dall'altro poi dice, beh, mettessimo 9 euro, piccoli artigiani, come la paghi una badante? Allora, se l'idea è che 9 euro sono troppi, non va bene, perché non riusciamo insieme a portare avanti questo paese. Non mi è sfuggito che annuiva l'onorevole Gruppioni, in particolare sul tema della sceneggiata. Insomma, Italia Viva è sempre stata particolarmente critica sul disegno presentato dalle opposizioni, non lo ha firmato. Eppure, quale sarebbe stata, secondo voi, la soluzione corretta, onorevole? Allora, io innanzitutto volevo fare un ragionamento anche con il mio collega con la segretaria, colgo l'occasione appunto, per partire da un punto che sicuramente condividiamo, cioè il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla qualità, alla quantità del suo lavoro, che gli permetta ovviamente di svolgere, di vivere una vita dignitosa per lui e per la sua famiglia. Partendo da questo principio, sancito dall'articolo 36, credo che noi dobbiamo analizzare le proposte sia dell'opposizione che della maggioranza in quest'ottica. E io credo e trovo che ci sia in entrambi un errore di metodo, che ci sia molto confusione. Mi spiego meglio. Per quanto riguarda la proposta dell'opposizione, il salario minimo, che abbiamo appena detto che è anche impropriamente chiamato, perché io preferirei chiamarlo il salario giusto, il salario reale, quello che rappresenta un corrispettivo adeguato e dignitoso del lavoro prestato, viene calcolato, ancora non si sa come, in realtà, a 9 euro. Ma come si fa a definire se un salario è alto o basso? Ovviamente ci sono delle regole. Ci sono delle regole date dalla direttiva dell'Unione Europea che appunto stabilisce che il salario minimo è pari al salario mediano, che dovrebbe essere il 60%. Allora, col salario proposto dall'opposizione abbiamo un 75%. Quindi capiamo che questo effetto distorsivo del salario minimo potrebbe provocare sicuramente disoccupazione e ovviamente il lavoro in nero. Detto questo, ovviamente è corretto, è corretto che venga tutelato la retribuzione e il lavoro. Ma come farlo? A nostro avviso l'unica soluzione adeguata, reale, che sia aderente alla realtà è demandare alla contrattazione collettiva, motivo per il quale annullo oltre che per la sceneggiata. Contrattazione collettiva che però, come propone la maggioranza è un progetto lacunoso, lacunoso nel metodo, perché effettivamente come pensano, come si pensa di rafforzare la contrattazione collettiva? Perché è una bellissima frase, piena di significato che se però non viene spiegata, non viene contestualizzata, può volere dire tutto e niente. e quindi lo trovo abbastanza lacunoso come presentazione di progetto da parte della maggioranza. Un prerequisito fondamentale è ovviamente la ricomposizione del sistema di rappresentanza della contrattazione collettiva con dei sindacati, affinché appunto vengano ripristinati dei meccanismi certi, sicuri, affidabili e di misurazione della rappresentatività, perché è quello il vero tema, motivo per il quale annoevo convintamente. Italia Viva non ha sottoscritto la proposta dell'opposizione anche se ovviamente siamo sostenitori di un salario giusto, corretto, dignitoso che valorizzi l'operato del lavoratore perché ovviamente il progetto come era stato scritto era stato scritto in modo assolutamente diverso, infatti il 9 euro non era più riferito alla retribuzione complessiva ma a quella tabellare, quindi facevano diventare veramente uno dei salari cinimi più alti più alti d'Europa. Sentivo che si sbuffava la segretaria sulla retribuzione più alta d'Europa, c'era questo rischio. Non lo è, non lo è, in Germania sfiora i 14 euro, in Francia è più alto, 9 euro l'ora, insisto, significa 1200 più o meno euro al mese netti, come si fa a pensare a una paga oraria più bassa di questa? Come si fa? Però l'onorevole diceva che rispecchiava comunque era diciamo così aderente alla realtà del nostro paese, giusto l'onorevole Corpioni? Assolutamente sì, aderente alla realtà del nostro paese mentre quello il salario minimo tedesco è aderente alle condizioni finanziarie della Germania, anche perché rappresenta il 59% quindi è l'1% al di sotto del salario mediano, quindi rispetta assolutamente le direttive dell'Unione Europea, cioè noi abbiamo ovviamente delle regole che noi valutiamo, con le quali valutiamo la bontà delle proposte e credo che sia opportuno partire da questi punti fermi per poi costruire e anche cambiare il percorso e ristrutturare probabilmente il mondo del lavoro il mercato del lavoro anche perché da dopo guerra in poi molte cose sono cambiate. Onorevole, io non ho capito sinceramente, lei sta dicendo che 9 euro di paga oraria come minimo di legge sono troppi perché abbiamo troppo del resto, cioè le ferie, i permessi, le maggiorazioni, ciò che viene conquistato con la contrattazione, non ho capito, cioè se la vostra idea è quella che dovrebbe essere più alto o più basso, io sto dicendo sto dicendo segretaria che 9 euro è un numero indicativo che non vuol dire niente perché a seconda di dove noi abitiamo a seconda delle variabili a seconda del settore a seconda del periodo in cui noi viviamo possono essere 9, 10, 11, 1000 quindi non è indicativo il 9 euro per me è un valore proposto senza un ragionamento sottostante anche perché credo segretaria che sia molto importante valutare work in progress quale sia la soluzione migliore per i lavoratori a seconda del settore a seconda anche di dove il lavoratore abiti e a seconda del momento storico in cui viviamo adesso ho capito lei pensa alle gabbie salariali beh andiamo avanti in questo paese poi ci arriviamo alle gabbie salariali onorevole segretario io volevo andare un attimo è un'altra cosa dicevamo prego onorevole Cattaneo la collega Grupponi dice secondo me una cosa semplice che rispetto a come il resto dell'Europa è fissato il salario minimo ovvero la mediana degli altri contratti in Italia la scelta dei 9 euro una scelta così che è stata fatta in maniera questo lo dico io un po' demagogica e per dare così un numero ma che non è fatta con lo stesso metodo con cui si identifica nel resto dell'Europa io aggiungo questo spesso si dice lo chiedo anche a lei sono troppi? state dicendo che sono troppi o no? non lo capisco io lo chiedo a lei io lo chiedo a lei visto che la CGL ha firmato ha firmato diversi contratti sotto i 9 euro la CGL li ha firmati i contratti con solo una paga oraria sotto i 9 euro quindi sono io che chiedo a lei visto che li avete firmati credo che voi non li riteneste non li riteneste troppi 9 euro perché voi avete firmato dei contratti sotto i 9 euro quindi immagino che quando li avete firmati non lo ritenavate diciamo troppo poco glielo dico abbiamo firmato il contratto in particolare immagino lei si riferisca non arriva niente uno alla volta segretaria immagino lei si riferisca al contratto citato dalla Presidente del Consiglio anzi dal Presidente del Consiglio so che ci tiene che è quello della vigilanza privata pensi che quel contratto era bloccato da 7 anni perché il punto della contrazione è questo è quello che provavo a dire e cioè ci sono due parti che devono avere una volontà quel contratto era fermo da 7 anni abbiamo chiesto a tre governi di intervenire per aiutarci perché non riuscivamo a sbloccare cioè non so come dire nel contratto di metalmeccanici noi abbiamo anche dei rapporti di forza molto importanti e ce li giochiamo rinnoveremo adesso il contratto e sappiamo che a quel tavolo siamo più forti perché molte realtà metalmeccaniche sono grandi e organizzate in questo caso era meno così abbiamo chiesto a tre governi un aiuto il governo compreso questo la vostra ministra del lavoro ci ha ospitati in due stanze lasciando le parti da sole e a un certo punto quando si è arrivati o prendi 5 o niente abbiamo dovuto ricorrere alla magistratura che è intervenuta dicendo che quel salario non era sostenibile perché non era coerente con la costituzione quello che voglio provare a dirvi è che non stiamo su parti opposte come la contrattazione è una minimo di legge una base d'asta mettiamola così non sono cose alternative sono due provvedimenti che devono parlarsi e non sovrapposti e non sovrapposti ma certo servono entrambi anche perché ricordo che all'inizio un anno fa quando si parlava come siamo messi io ricordo bene che un anno fa quando si iniziava a parlare di salario minimo la CGL inizialmente era stata molto contro l'idea del salario minimo e a favore del discorso che oggi stiamo facendo su ricomprendere la contrattazione collettiva che oggi ne è escluso poi avete cambiato idea avete cambiato idea perché forse avete capito che è un punto di vista politico è venuta giù la fine del mondo è un momento straordinario se la classe che volete ha preso oltre 100 euro adesso torniamo un momento solo il tema onorevoli il momento solo aggiungo un tema l'ultimissimo l'ultimissimo tema quando quando è che si annidano chi ascolta da casa secondo me lo sa bene gli abusi in determinate categorie l'abuso delle partite IVE l'abuso anche dello strumento delle cooperative perché spesso quando ci sono questi ribassi si usa lo strumento della cooperativa la cooperativa riesce con diciamo così una a girare un problema e anche lo dico eludendo un meccanismo virtuoso che è il sistema cooperativo invece se ne fa come dire un uso che diventa un abuso si riesce a dare per le pulizie industriali per i servizi di vigilanza una paga grazie al fatto che il lavoratore diciamo viene apparentemente ricompreso come fosse un saccio della cooperativa viene permesso il fatto che venga pagato una fame allora visto che conosciamo dove ci sono dove ci sono posso dire che la vigilanza privata 70% lavora per voi un momento così non andiamo lontani io volevo far finire l'onorevole Cattaneo e poi volevo andare dal rettore dal professor Fortuna perché effettivamente c'è un tema che riguarda proprio l'ammontare di denaro l'onorevole Cattaneo la lascio finire e poi il professor Fortuna no ho concluso dicendo che quindi partite IVA stegisti sfruttati sistemi cooperativi alcuni che diciamo ne fanno un utilizzo distorto allora andiamo appalti subappalti colpiamo diciamo in maniera mirata dove stanno gli abusi ma attenzione perché la nostra unica paura è che fissando per legge un numero di salario minimo magari riusciremo faccio per dire dei numeri dell'otto ma per far capire a casa aumentiamo il salario forse a un milione di lavoratori ma rischiamo di abbassarlo a 10 milioni perché il piccolo imprenditore esce dalla contrattazione collettiva e da secco il salario minimo non è quello che vogliamo noi bisogna un attimo dal rettore poi vengo da lei vengo da lei tra poco però mi levi i metalmeccanici dell'ILVA perché io divento aggressiva e allora regia leviamo i metalmeccanici che così la segretaria Tibaldi teniamo i metalmeccanici no li lasci prego ecco teniamo i metalmeccanici io volevo fare una domanda se è possibile alla segretaria perché non parlo sopra perché non mi sembra corretto no no non parlo non a lei non parlo sopra a nessuno perché non mi sembra corretto perché da casa non capiscono io volevo chiedere lei ha fatto una domanda ma per noi è alto ma per lei potrebbe essere basso è questo il tema la contrattazione collettiva è il cuore per definire la retribuzione corretta per il lavoratore ecco perché ho depositato a mia prima firma un progetto di legge che era forti questo ma i rapporti come lavorando sulla rappresentanza perché anche qua abbiamo problemi ovviamente di frammentazione lei lo sa bene perché noi parliamo del sindacato più forte in assoluto che quello della metalmeccanica anche io vengo da questo mondo e quindi bisogna che si metta in che si metta in ordine e si assuma un metodo e una misura per cercare di avere una sola voce in questo caso un tavolo di lavoro datore di lavoro e lavoratori e voi che riesca appunto a ottenere il risultato vestito sull'esigente della persona in quel momento ovviamente dove lavora in quel settore e nel posto in cui vive questo volevo dire professor Fortuna siamo arrivati a lei ce l'abbiamo fatta allora il suo parere intanto a partire sui 9 euro intanto mi è piaciuta molto la discussione poi si è animata leggermente ma molto pagata piena di riflessioni condivisibili in larga parte anche se provenienti da soggetti che magari possono pensarla in modo differente ma il mio pensiero che ho espresso tante volte quando c'è stata occasione nelle interviste è questo noi abbiamo un punto di partenza che sembra astratto ma è molto concreto quell'articolo 36 che ha richiamato precedentemente esattamente quello sembra una cosa astratta ma una cosa invece di una verità assoluta cioè la retribuzione deve essere commisurata alla quantità e alla qualità e deve assicurare al lavoratore ai componenti da famiglia al lavoratore un'esistenza libera sembra un concetto astratto ma è punto di partenza come si può risolvere il fatto che non sia così lo deve decidere la politica e abbiamo assistito ad uno scontro politico come spesso avviene su due concetti differenti a me alcune volte è sembrata proprio una disquisizione di carattere politico perché al cittadino non interessa nulla quali siano le modalità gli strumenti interessa che ci sia risultato quindi a questo punto però non c'è stato un incontro un accordo tra maggioranza e opposizione perché si rimane arroccati ciascuno sulle proprie posizioni e quindi è evidente che se la maggioranza sta andando in una certa direzione risponderà poi di ciò che ha deciso di fronte ai lettori e quindi perché dico questo perché la contrattazione collettiva è vero molto estesa in Italia però una parte cioè ci deve essere una copertura al 100% altrimenti è una parte cospicua e poi per quanto riguarda il salario minimo è vero in 5 paesi in Europa non hanno il salario minimo ma tutti i paesi hanno la stessa struttura per esempio a proposito di contrattazione collettiva però anche sentendo voi devo dire che le argomentazioni da una parte dall'altra dall'altra sono valide il problema è arrivare a una convergenza che consenta poi rispetto all'articolo 36 che non è semplice sia che si scelga l'una o l'altra soluzione questo è il mio pensiero pensi che fatto rivoluzionario sarebbe se il Parlamento italiano dicesse dato che c'è la Costituzione adesso tutto il sistema delle imprese pubblico e privato pubblico e privato deve garantire quel salario dignitoso dando arrivando alla contrattazione con almeno 9 euro 10 euro per carità e da lì si confrontano le parti sarebbe una rivoluzione straordinaria la segretaria Tibaldi tra poco ripartiamo da qui sempre all'imprenditore e gli altri ripartiamo per questo secondo mini round sempre all'imprenditore e gli altri io ripartirei da una frase dell'onorevole Cattaneo tuteliamo piuttosto i contratti collettivi e poi per la sinistra è solo un tema ideologico onorevole insomma il contratto collettivo sembra essere anche in studio quello che dovrebbe essere maggiormente sottolineato è così? Sì e che lo diciamo noi di Forza Italia che insomma abbiamo nella storia anche non pochi momenti di conflittualità con alcune parti del sindacato mi sembra che possa essere una buona un buon fatto per testimoniare come non è per noi un tema pretestuoso ma perché siamo intimamente convinti che quella sia la strada per alzare i salari dei lavoratori cosiddetti poveri a chi oggi prende paghe da fame che sono inaccettabili per tutto un'altra riflessione è che molte volte si dice gli stipendi in Germania sono saliti rispetto a vent'anni fa molto più di quanto non siano saliti in Italia però ci dimentichiamo di dire che anche il PIL è proporzionalmente salito in Germania e non è salito in Italia quindi è impossibile immaginare che i salari si alzino e il PIL rimanga al palo quindi a volte c'è questa tendenza della sinistra con troppe ideologie di provare a invertire l'ordine dei fattori cioè prima faccio alzare i salari e quindi in questo modo stimolerò il PIL a crescere ma purtroppo non funziona così in economia quindi noi come forze liberali di questa maggioranza crediamo che invece stimolare il PIL si porti dietro automaticamente anche la crescita dei salari minimi poi oggi ritengo anche utile la discussione di questa sera perché abbiamo visto come nel merito poi ci si confronta mi sembra che sia emerso quanto la contrattazione collettiva sia un valore del nostro paese perché oltre a una paga minima ci sono dentro anche tante tutele di welfare i diritti dei padri madri lavoratori lavoratrici ci sono oggi anche diciamo iniziative dei cosetti fringe benefit a favore dei lavoratori e poi voglio chiudere con questo io spero veramente che comprendiamo tutti che è superata la fase in cui l'imprenditore in qualche modo è dalla parte opposta o avversa addirittura del tavolo rispetto al proprio operaio rispetto al proprio dipendente oggi ci sta ci sta ci siede tutti dalla stessa parte del tavolo perché l'imprenditore che trova il lavoratore affidabile preparato che impara il mestiere e che riesce anche a innovarlo stando sul processo produttivo è l'asset più prezioso che l'imprenditore ha soprattutto oggi dove per fortuna c'è tanta richiesta di lavoro e si trovano poche mano d'opera ancora meno poche mano d'opera specializzata sono così bassi tutti i cattivi lavoratori come mai sono così bassi da gruppioni sono alcune sacche particolari forte e chiaro mi sentite sì forte e chiaro allora dicevamo l'equazione secondo lei qual è quella giusta dove vanno gli addendi dove vanno le somme dove vanno i più e i meno i peri sono quella dei numeri degli articoli infatti citerò anche per gioia del rettore 39 allora io credo fermamente che il salario è minimo non debba essere inteso come intervento legislativo mi sentite vero? sì sì ecco quello che secondo me dovremmo fare politicamente è dare l'autorità alla contrattazione collettiva che oggi ha questa grande autorevolezza io credo fermamente che le aziende siano fatte di persone infatti seguo assolutamente questi ragionamenti e che devono essere sostenuti credo anche che ovviamente il nostro tessuto territoriale italiano sia molto colpito da tutti gli eventi successi in questi anni e che la competitività del nostro paese dipenda soprattutto dai fattori esogeni che hanno colpito le nostre aziende abbiamo energia abbiamo trasporti abbiamo guerre e quindi è difficile aumentare i salari se non aumenta la produttività ed efficienza nel nostro paese questo è assolutamente la base è importante di nuovo l'anima dell'imprenditrice l'aspettavo la segretaria ha ragione ma io conosco il ragionamento ma questi no ma assolutamente sì ma il ragionamento parte dall'azienda perché è l'azienda ovviamente che sostiene la produttività l'efficienza del tessuto produttivo italiano con gli investimenti certo con gli investimenti ovviamente con la crescita diciamo anche che la competitività oggi è difficile da sostenere perché siamo gravati di costi che ci rendono ovviamente i prodotti non competitivi processi non competitivi poi noi siamo due metalmeccaniche per lo segretario fatemi fare una battuta cosa sono passati 40 minuti e a dirvi quanto è facile la contrattazione le imprese stanno già piangendo miseria parlavamo di 1200 euro di stipendio scusi la butto a scherzo però guardi davvero io ce l'ho col governo non ce l'ho con i sindacati io ce l'ho col governo che dovrebbe fare ovviamente dove dovrebbe intervenire in modo più strutturale per sostenere le imprese o anche i lavoratori assolutamente dove si fa la lista che va via a cui volevo chiedere solo l'ultimissima parola so che deve andare via onorevole le chiedo 30 secondi insomma c'è il rischio davvero che si torni alle gabbie salariali nel nostro paese onorevole Cattaneo di gabbie salariali si è parlato anche diciamo in alcune parti della maggioranza e in qualche modo anche stasera è stato sfiorato il tema io non credo che le gabbie salariali siano uno strumento come dire moderno oggi bisogna viceversa accorciare le diseguaglianze dei territori nord, sud provincia città metropolitane aree vaste con aree metropolitane queste sono diciamo le forbici del paese da avvicinare non credo nelle gabbie salariali bene la salutiamo l'onorevole Alessandro Cattaneo di Forza Italia grazie per essere stato di nostra compagnia e buon lavoro grazie a voi grazie buon lavoro a tutti noi davvero a presto onorevole grazie ancora io resto invece in compagnia dell'onorevole Gruppioni e della segretaria Tibadio oltre che del rettore Fortuna perché mi sembra di capire che insomma le gabbie salariali siano state un tema accarezzato anche questa sera ma che insomma vengono analizzate affrontate percepite anche con un certo timore un certa paura è così segretaria guardi sa qual è il vantaggio del fare discussioni e confronti interessanti come quelli di stasera che il tempo ti regala un fatto straordinario la verità dopo un po' che ti parli cominciano a emergere le ragioni perché se no non si capisce allora non si può mettere un minimo di legge anche se diciamo che si deve sommare alla contrattazione anzi deve essere coordinato con la contrattazione non si può comunque perché per aumentare i salari ci viene detto deve aumentare il PIL sono 40 anni che il PIL che salga o che scenda i salari sono sempre uguali la produttività deve aumentare per aumentare i salari altra affermazione terza affermazione bisogna avvicinare le distanze c'è stata una mezza discussione sulle garibie salariali per capirci le garibie salariali sono dato che l'affitto a Napoli costa di meno che a Milano un insegnante è giusto che a Napoli guadagni di meno questo è il concetto delle gabbie salariali giusto per chiarezza tra di noi la verità è che il salario minimo di legge non si fa perché si pensa che sia un vincolo eccessivo per il sistema delle imprese che invece hanno bisogno di essere stimolate a investire fare politiche industriali e tenersi i dipendenti a partire dai giovani non solo di altissime qualifiche ma alte e medie perché i giovani stanno andando via da questo paese allora questo paese deve garantire politiche industriali e salari dignitosi punto se no andiamo indietro non avanti questo è il punto poi spiegare che la discussione è che siamo tanto democratici non si fa per legge perché qualcun altro lo deve fare con la contrattazione è una come dire è un giocare il punto è sommare tutto ciò che puoi sommare la contrattazione che devono fare i lavoratori attraverso sindacato agli interventi di legge perché se guardi un paese dove si guadagna così poco capisci che la costituzione non è applicata e non è un paese giusto e insieme costruire gli strumenti per far avanzare le cose siamo appena usciti da un'inflazione che in modo anomalo non era determinata dai consumi ma è stata determinata dalle speculazioni i lavoratori l'hanno subita la vorrei dare all'onorevole Gruppioni in conclusione io ascolto mi piacciono in conclusione dove la segretaria dice lavoriamo insieme bene lei ha perfettamente ragione ci sono un sacco di problemi nel nostro paese che dipendono ovviamente dalle scelte fatte fino adesso e dalle scelte che stiamo facendo anche oggi non è nascondersi dietro a delle delle scuse quando si parla di produttività nel nostro paese perché sappiamo perfettamente che ci sono delle grosse difficoltà di competitività dei posti perché lo sappiamo anche perché non siamo competitivi a livello di prezzi questo è è innegabile quindi un prodotto tutti accorti come dalle sue parti che abbiamo fatto i Lamborghini lei è bolognese io sono bolognese però se la fermo allora Lamborghini ha fatto un accordo di 4 giorni e io credo che potrebbe essere applicabile alla realtà di Lamborghini ecco se non parlavo di gabbe salarali ma di contrattazione decentrata che è un'altra cosa se lo facciamo in una fonderia di pressofusione contro terzo in un accordo del genere chiudiamo dopo mezz'ora lei me lo insegna la nostra segretaria perché non potrebbe sostenere ovviamente i costi perché VTV è un particolare un pezzo e impatta sul costo del prodotto e qua parliamo di politica industriale che deve essere sostenuta dal governo che deve sostenere le aziende negli investimenti nella detassazione deve deve cercare di trovare un equilibrio per sostenere con l'energia perché la maggior parte delle aziende ovviamente hanno dei consumi per quanto riguarda invece la manodopera che è importantissima e fondamentale perché le aziende sono fatte di persone lo ripeto perché noi dominiamo un processo la loro formazione e le loro capacità oltre che le macchine e la modernizzazione che accorciano e migliorano l'efficienza che ci permettono di guadagnare secondi che noi caliamo e scontiamo sul costo del nostro prodotto che poi riusciamo a vendere all'estero questo è io dico solo questo che bisogna trovare un peso e una misura nel senso che sarebbe giusto come cerchiamo appunto di proporre al Parlamento in questi giorni che venga normata la contrattazione collettiva oltre che prima di tutto chiarificata la rappresentata certo l'applicazione dell'articolo 39 il direttore sarà molto contento di fianco perché perché anche qua segretaria ci sono dei punti interrogativi importanti la frammentazione dei sindacati non ovviamente quello della metalmeccanica troverà la nostra proposta di legge sulla rappresentanza da qualche parte lì in Parlamento se la recupera fantastico abbiamo le stesse idee mi fa molto piacere perché ai tavoli è quello giusto vi mettiamo in contatto perché siamo tutti dalla stessa parte vi mettiamo in contatto intanto per questa sera io vi ringrazio ringrazio l'onorevole Neike Gruppioni di Italia Viva grazie onorevole buona serata buon lavoro grazie a voi e ringrazio anche la segretaria nazionale della FIOM CGL la dottoressa Barbara Tibati grazie per essere stata in nostra compagnia grazie il rettore lei resta qui con me noi tra poco torniamo però con un'altra notizia anzi lo lanciamo subito un servizio che riguarda appunto un futuro più green per il nostro paese visto anche dalla telecamera di un regista come Oliver Stone la soluzione per contrastare i cambiamenti climatici i sostenitori dell'energia nucleare lo ripetono quasi come un mantra come se fosse l'unica vera risposta alla ricerca di una fonte di energia sicura e poco dannosa fra questi si è aggiunto anche il regista americano Oliver Stone che nel suo primo docufilm Nuclear Now si schiera al fianco dell'energia atomica non c'è più tempo per avere paura ha detto alla presentazione in quer di Roma ribadendo come anche lui dapprima convintamente contro l'energia nucleare si è dovuto ricredere e questo spera possa accadere anche alla platea in sala anche perché secondo i sostenitori atomici Stone compreso per dire addio ai combustibili fossili non sarà sufficiente ricorrere al fotovoltaico e all'eolico la fusione nucleare e non la fissione come finora applicato potrebbe rappresentare una vera svolta capace di racchiudere una maggiore potenza minori scorie e il rischio minimo di fuoriuscite di materiale che in caso non sarebbe radioattivo l'unico scarto prodotto sarebbe l'elio già presente nella nostra atmosfera in questo caso verrebbe utilizzato un plasma ad altissima temperatura e a bassa pressione mantenuto coeso da un campo elettromagnetico un discorso che sembra preso da una puntata di Star Trek ma che potrebbe essere a portata di mano o quasi a Cadarache nel sud della Francia si sta realizzando infatti ITER dove avrà sede il reattore sperimentale più importante del mondo una sfida che partirà ufficialmente nel 2035 nel frattempo oggi ci prova Oliver Stone a far capire al mondo attraverso la lente della sua cinepresa quanto l'energia nucleare in fondo non sia così cattiva e spaventosa la nuova pericola del regista fra gli altri di Platone nato il 4 luglio si inserisce infatti nella deatriba fra chi il nucleare continua a non poterlo accettare con ancora ben impressi nomi come Hiroshima Nagasaki Cernobile Fukushima e chi invece è impegnato per triplicarne l'uso è il caso dell'accordo avvenuto alla COP28 di Dubai dove 22 paesi compresi Francia Regno Unito e Stati Uniti hanno deciso di triplicare la produzione di energia nucleare entro il 2050 e allora avete capito il tema insomma c'è una possibilità che il nucleare torni a essere una costante cappa diciamo così del nostro fabbisogno energetico e come soddisfarlo Doyle buonasera e ben ritrovato ad Alessandro Ciacchipaone giornalista ben ritrovato ben ritrovato a te ben ritrovato io me lo dico da solo grazie tantissimo ben trovato Alessandro e in compagnia in nostra compagnia in collegamento abbiamo Luca Romano l'avvocato dell'Atomo e allora avvocato buonasera buonasera e abbiamo anche Tommaso Iuas portavoce di Ultima Generazione Tommaso buonasera buonasera salve a tutti buonasera allora c'è un tema che è quello di un'energia nucleare che sembra essere ormai impossibile da togliere dal tavolo eppure c'è ancora come sentiamo nel servizio nomi di città che sono diventati sinonimi Alessandro di problemi di emergenze di rischi Cernobil Fukushima ma anche per esempio Hiroshima e Nagasaki sono solo quattro Hiroshima e Nagasaki hanno a che fare con il nucleare bellico il nucleare che distrugge ma Fukushima e Cernobil hanno due motivazioni Cernobil perché l'Unione Sovietica e in generale quel mondo ancora oggi è un mondo tecnologicamente arretrato e quindi c'è stata la tragedia perché non hanno saputo fare manutenzione gestione e non hanno saputo fermare l'incidente in tempo Fukushima è stata una terribile eventualità perché semplicemente il maremoto e lo tsunami ha praticamente portato l'acqua dove c'erano i generatori per il raffreddamento e lì c'è stato un guaio io però volevo ricordare che a parte queste quattro città e le differenze fra le due città belliche e le due città civili il nucleare è una realtà in 450 centrali in tutto il mondo quindi siamo solo noi come al solito in tutto ciò che è innovativo e tecnologico che siamo indietro perché mezzo mondo va avanti con il nucleare non riscopre il nucleare lo conferma e lo rilancia vado da Luca Romano che insomma ha detto in un'intervista temere un'altra Cernobile oggi è come non prendere l'aereo pensando all'incidente di un biplano nel 1920 è una paura che ormai si è cristallizzata però avvocato quella del nucleare c'è modo di far capire che insomma non è più il biplano del 1920 questo nucleare ma certamente c'è il modo io credo che i giovani oggi non abbiano più quella memoria come dire quel trauma nella memoria collettiva che è stato Cernobile e infatti oggi i giovani tendono a essere molto più favorevoli al nucleare chiaramente ci sono delle persone che sono state un po' sconvolte da quell'evento che è rimasto impresso nella loro coscienza e con loro è più difficile però io sono un convinto sostenitore del fatto che le persone possano cambiare idea se adeguatamente informate ed è per questo anche che faccio poi divulgazione scientifica nella mia vita quotidiana per questo ci sarà utilissimo perché siamo dalla stessa parte della barricata il cambiamento di rotta di Oliver Stone Oliver Stone è capace con un film di cambiare l'opinione pubblica mondiale e anche lui ha capito che senza energia nucleare pulita e sicura non c'è salvezza per il pianeta lui che era contrarissimo al nucleare era contrarissimo per questo è importante avvocato romano sì io tra l'altro non sono un avvocato sono un fisico avvocato dell'atomo avvocato dell'atomo quindi avvocato di ufficio diciamo così sì sì lo precisavo solo per il pubblico comunque sì diciamo che oggi la preoccupazione del nucleare è raro che sia ancora basata su questioni di sicurezza perché davvero parliamo di una tecnologia in cui i moderni esemplari vantano delle statistiche di sicurezza della serie un incidente ogni milione di anni reattore cioè parliamo di una delle tecnologie più sicure che esistano persino Fukushima stessa che pure è un rettore degli anni 60 dimostra la sicurezza del nucleare nella misura in cui nonostante la fusione del nocciolo di ben tre reattori non ci sono state vittime cioè Fukushima non ha causato morti né dirette né indirette dovute alle radiazioni le uniche morti si sono dovute per l'evacuazione precipitosa ordinata da un governo che ha avuto una pessima gestione dell'emergenza e quindi voglio dire le questioni di sicurezza oggi non dovrebbero più spaventare poi ci sono tante altre questioni oggi si parla molto dell'aspetto economico dell'aspetto dei tempi e tutte queste richiedono un'adeguata informazione del pubblico per poter prendere le decisioni mi trovo anche mi prendo ancora un minuto scusate a commentare a servizio introduttivo perché oggi il nucleare a fusione non è una realtà tecnologica è un ambito di ricerca il progetto ITER in Francia nel 2035 forse produrrà una fusione ma non è allacciato alla rete non è un progetto che produrrà energia elettrica cioè noi nel 2035 forse saremmo la fusione se non sbaglio questo reattore che stanno costruendo nel sud della Francia nel senso che quello che viene prodotto e quello che viene utilizzato per produrre questa energia dovrebbe essere sommatori a zero nel futuro quando sarà giusto? allora l'idea è no che il reattore possa produrre più energia di quella che consuma e che quindi possa dimostrare che si può fare ma una volta che questo ITER l'avrà fatto da lì ad arrivare a una generazione reattoristica in serie in grado di essere connessa alla rete di produrre energia su scala mondiale passeranno altri 20 o 30 anni quindi la fusione di un futuro che forse nessuno di noi vedrà purtroppo Luca Romano io volevo andare un altro scusa non nessuno di noi vedrà abbi pazienza magnifico rettore magari saremo un po' vecchiarelli ma ci saremo e come che diamo 20 anni 30 anni che sarà mai ci rivediamo tutti qui in questo salotto intanto rettore l'abbiamo detto tante volte in questa trasmissione il nucleare sembra una costante cappa come detto in apertura che non si riesce più a togliere dal tavolo volenti o nolenti deve essere qualcosa con cui i nostri vicini hanno già fatto i conti e noi invece ancora siamo un po' recalcitranti i conti ci vendono la loro energia nucleare scusi rettore noi andiamo avanti con l'energia prodotta in Slovenia e nei paesi confinanti pagata a caro prezzo perché noi non ce l'abbiamo sì sì è giusto ma io credo che si debba un po' superare il preconcetto io stesso quando sentivo parlare di nucleare a parte che non sono un esperto di questi temi però quando sentivo parlare di nucleare beh la terminologia incute un po' di timore nel senso che abbiamo assistito anche a qualche a qualche situazione difficile prima l'avete richiamate e quindi la popolazione il cittadino un po' di scetticismo ce l'ha però che vedo che anche in Italia si sta verificando un processo di sensibilizzazione perché poi necessità fa virtù se dobbiamo cancellare gradualmente perché non si farà dall'oggi al domani il carbone il petrolio e dobbiamo avere degli strumenti alternativi tra questi strumenti alternativi sì l'Italia ha tante bellezze naturali che consentono di pensare a un potenziamento di quelle fonti energetiche ma delle fonti rinnovabili ma poi bisogna aggiungere magari lo sfruttamento dell'idrogeno e dell'energia nucleare tra l'altro quella di quarta generazione dalle cose che ho letto sembra abbastanza rassicurante sotto tutti i profili con tutte le caudelle del caso io sono diventato favorevole ad una diversificazione energetica abbracciando anche il nucleare posso inserire una valutazione importante scusi scusa amico atomico ti considero tale bisognerebbe leggere con più attenzione Bill Gates che non è più quello che ci ha cambiato la vita con internet Bill Gates è quello che finanzia la carne coltivata in laboratorio da staminali Bill Gates è quello che già alcuni anni fa ha detto guardate che il futuro è piccole centrali in piccoli posti per piccoli distretti il che chiaramente rende tutto più facile meno costoso e più controllabile ed è effettivamente quello che ha detto il nostro ministro Pichetto Frattin alla COP28 a Dubai dicendo che anche l'Italia non pensa più di costruire le enormi centrali che fanno anche un po' paura a vedersi pensa a Zaporizia con i problemi anche bellici che ci sono in Ucraina ma ogni distretto industriale potrà anche a livello privato costruirsi la sua piccola centrale nucleare tra virgolette di quartiere per poi potersi produrre la sua energia in maggiore sicurezza è un passo avanti enorme con questi mini reattori molto critico Tommaso Iuhas di ultima generazione uno dei portavoci di ultima generazione Tommaso allora mi rendo conto che vabbè ascoltando un po' come il discorso è stato impostato più o meno sento la temperatura della stanza e non posso negare il fatto che l'energia nucleare sia una parte reale del discorso in cui a livello globale in questo momento stiamo discutendo quindi non solo noi che siamo uno sputo nel mondo ma anche Cina e India stanno ragionando sul loro futuro ricordiamo tra altre cose che però nel frattempo la Cina ha fatto un investimento in rinnovabili che è una cosa inimmaginabile quindi nel senso spesso quello che quello che sento da Luca è che la necessità di portare avanti un mix energetico tra nucleari e rinnovabili per diciamo una prospettiva in cui si riesce ad andare incontro ai bisogni della popolazione H24 stando riuscendo a compensare le eventuali mancanze di sole di vento quelli che possono essere le varie questioni quello sul nucleare che come ultima generazione ci sentiamo di portare avanti è un discorso che si allontana un po' dal tecnico noi non ci sentiamo non vorremmo essere considerati un movimento ecologista siamo un movimento che si occupa fondamentalmente di democrazia sempre mi sono fatto un giro sulle fac dell'avvocato atomico per rinfrescarmi visto che sono arrivato proprio qui di rincorsa sono giornate abbastanza pesanti abbiamo avuto una settimana molto lunga con 12 arresti 12 persone che si sono trovate a fare tre notti in cella ed è stato vi garantisco un susseguirsi di giorni molto intensi quindi vi chiedo scusa sono arrivato veramente dopo una giornata di lavoro lunghissima mi sembra che si inizi un po' a vedere la consapevolezza rispetto al fatto che in ogni caso le cose dovranno cambiare la grande domanda che dobbiamo porci è la direzione in cui vogliamo farle cambiare a livello di democrazia il grosso punto interrogativo del nucleare rispetto ai discorsi che stanno venendo portati avanti dal basso chiaramente riguarda ad esempio le comunità energetiche cioè la possibilità di una comunità di gestirsi l'approvvigionamento la distribuzione il consumo di elettricità e ora capiamoci se abbiamo dei problemi con i parchi con il microeolico con il micro solare io non ho idea di quello che possa voler dire mettere in mano dei privati un stramaledetto mini reattore nucleare quindi per favore cioè rimaniamo sul serio un momento perché poi ripartiamo da qui perché questo è un tema che voglio su cui voglio ritornare ma devo andare un momento in pubblicità e poi torniamo per quello che abbiamo definito un altro mini round sempre qui all'imprenditore e gli altri un stramaledetto benedetto I think the last three years have been getting hotter and hotter, forest fires, floods, oceanic storms, it's horrible what's going on. And we have children, you have children I'm sure, grandchildren, what the hell's going to happen? Some people believe they'll come back in another life and then it'll be even worse. What I'm saying is that as a filmmaker I can only dramatize, I'm not a scientist, but I did go out and I talked to a lot of scientists. And I bought a book called A Bright Future by two scientists, and we spent a lot of time working on the script to make it clear, to try to dramatize what is nuclear power. There's a lot of uses for nuclear energy. It's the most, perhaps the greatest gift that was ever given to man. Marie Curie found it in 1895. So we're not using it. We're not using it. We started to use it by the 1970s, America, Russia, Japan, Korea. What happened? Boom, all of a sudden Chernobyl happened and everybody got freaked out. That was the only major accident that happened. Fukushima was not a nuclear accident. It was a tsunami that killed 18.000 people. Accidents happen, industrial accidents kill far more people than nuclear energy has. It's a gift and we're not using it. That's what drives me crazy. Le parole di Oliver Stone quindi ci riportano all'interno della nostra chiacchierata proprio sul tema del nucleare. Oliver Stone diceva, abbiamo dei figli a cui pensare. Tommaso Youas, insomma, noi siamo tutti d'accordo sul fatto che bisogna superare il combustibile fossile. Tutti no, si stanno scannando a Dubai, altro che tutto. Adesso si è pure d'accordo. Noi qui siamo d'accordo. Ecco, io la metterai in questo modo. L'attuale classe dirigente è quella che ci ha portato fondamentalmente sull'orlo di una potenziale reale gravissima catastrofe. È quella a cui vogliamo mettere in mano la potenziale soluzione? Cioè, Gilberto Picchietto Frattin sta al nucleare come amato stalle intelligenze artificiali. Cioè, vorreste mettere a Mr. Magù in mano la programmazione della potenziale ritorno al nucleare dell'Italia? Io non sono convinto sia proprio un punto di partenza eccezionale per quella che sarebbe una svolta storica. Io posso non essere particolarmente convinto riguardo al nucleare. Come ultima generazione, di nuovo, non è il centro del nostro interesse. Noi ci occupiamo di un fondo di riparazione. Questa è la nostra richiesta. La nostra richiesta si occupa in questo caso di adattamento, di aiutare la popolazione che verrà colpita nei prossimi anni dai fenomeni sempre più frequenti e sempre più gravi. È quello che ci muove, è quello che ci preoccupa, è quello su cui ci stiamo concentrando. Scusami se ti interrompo, Jacopo, vero? Tommaso. Tommaso, non si tratta solo di recuperare, no? Di dare dei soldi a chi verrà devastato. Si tratta anche di limitare via via sempre di più i disastri. Allora io vorrei ricordare a tutti, come è stato già detto anche dal nostro ottimo conduttore, che per quanto riguarda gli unici due incidenti della storia del nucleare civile abbiamo avuto un numero di vittime, sempre rispettabilissimo per carità, ma ridicolo rispetto al numero di vittime che noi abbiamo in continuazione ogni giorno per le emissioni di carbone, di petrolio e di gas. Se noi non prendiamo il nucleare, che emette soltanto vapore, acqueo e acqua calda, continuiamo ad ammazzare la gente con le emissioni del fossile. La terza via non c'è. Luca Romano... Mi riguarda definitivamente, di nuovo, io sono qui per parlare, in questo caso, quello che porto io ora è la coscienza dell'adattamento in un certo senso, è chiaro, dobbiamo parlare delle emissioni, è chiaro che di mezzo ci sta un problema politico, che andiamo verso il nucleare, che andiamo verso i rinnovabili, non è questa la classe dirigente che è in grado di aiutareci a attraversare... Ci sono 450 centrali nucleari in funzione, che mandano avanti il mondo che guida l'economia, mentre noi stiamo a crescita zero, perché non abbiamo energia nostra. Luca Romano, c'è un tema anche dalla COP che sta concludendosi a Dubai, che si concluderà domani, di un patto fra 22 paesi che tra l'altro hanno deciso di triplicare lo sforzo sul nucleare, l'utilizzo del nucleare. A te. Allora, i paesi erano in origine 16, poi sono diventati 22, adesso, stando alle mie fonti, sono 24, perché se ne sono aggiunti altri due. E sì, si sono impegnati a triplicare la capacità di generazione mondiale del nucleare. Volevo dire un paio di cose, perché ho l'impressione che si stiano mischiando un po' di discorsi, perché magari manca qualche dato tecnico. Quando si parla di nucleare di quarta generazione, si parla di una classe di tecnologie basate su sistemi di raffreddamento diversi dall'acqua, che hanno delle proprietà che li rendono interessanti per diverse applicazioni. Quando si parla di reattori piccoli modulari, non si intende per forza la quarta generazione. Ci possono essere reattori modulari piccoli di terza generazione e reattori di quarta generazione di grossa taglia. Quindi sono due discorsi separati. Il discorso che ha fatto il ministro Picchetto stamattina, purtroppo io non lo condivido, perché certamente la quarta generazione, in particolare i reattori ad alta temperatura, refrigerati ad elio, saranno molto utili per alimentare i distretti industriali e decarbonizzare dei settori che sono molto difficili da decarbonizzare altrimenti. Ma per la rete elettrica comunque serviranno reattori, quelli di oggi, quelli ad acqua. Poi si può scegliere la taglia, si può scegliere di farli da 300 megawatt o si può scegliere di fare quelli grossi da un gigawatt e oltre. Ma tra l'altro la taglia è una questione poi di logistica, per come è messa gli spazi. Non avrebbero più senso quelli grossi di quelli piccoli, in realtà. In ogni caso vorrei sottolineare una cosa, perché è stata menzionata, ma ci tengo a sottolinearla. È importante una diversificazione sia tra le fonti, le rinnovabili devono avere il ruolo, ma anche tra il nucleare. Il nucleare si va espandendo, si vanno aggiungendo tecnologie e queste tecnologie andranno usate tutte. Ci sarà spazio per i reattori grandi che forniranno energia elettrica alla rete, per i reattori piccoli che saranno più collocabili, più vicino ai centri abitati e potranno fornire teleriscaldamento e per i reattori di quarta generazione che operando a temperatura più alta possono in parte riciclare le cosiddette scorie radioattive e in parte fornire calore per processi come le acciaierie o i ceramifici dove serve calore ad alta temperatura e da elettrificare. Abbiamo perso una parte finale del tuo discorso, Luca Romano, ma è un tema molto interessante. Siamo indietro rispetto al mondo civile e tecnologico. Siamo un po' indietro. Sono d'accordo su questo con Alessandro Cecchipone. Volevo poi dire una cosa ragazzi di ultima generazione. Le comunità energetiche sono importantissime per facilitare la penetrazione delle rinnovabili ed evitare congestioni nella rete, ma si possono fare in certi ambiti, in certi altri no. Se hai un grande distretto industriale che consuma diversi gigawatt di potenza, ero a Dubai, ero alla COP, sono rientrato oggi, c'è un'acciaieria che consuma 4 gigawatt. Con 4 gigawatt che comunità energetica vuoi fare? 4 gigawatt costanti. Lì ti serve o un reattore nucleare o come hanno lì una mega centrale a gas. Sai anche tu che di mezzo al processo che dobbiamo affrontare c'è comunque una riduzione delle emissioni. Dovremmo fare un ragionamento. Poi tu dimmi l'Italia, l'Europa hanno diminuito, in parte abbiamo messo all'estero le nostre emissioni. C'è una complessità da affrontare. Certo. Una parte reale del discorso passa sì dal fatto che dobbiamo capire come generare l'energia di cui abbiamo bisogno. Un'altra parte di questo discorso passa dal fatto che sappiamo bene che il nostro ripartire nel nucleare vuol dire che se ti faccio una domanda dammi una risposta in linea di riferimento. Domani ho il posto dove fare una centrale di taglia media. Ti dico dove. Quando è finita? Se tutto va bene? In linea di massima? 10 anni. 10 anni? Dipende. Sì, 10 anni sarebbe fattibile. Il problema non è trovare il posto. Il problema è che in Italia quando tu provi a fare qualsiasi cosa che sia una centrale nucleare, una turbina eolica o un impianto geotermico devi fare 10 anni tra ricorsi al TARA al Consiglio di Stato dei gruppi locali. In Italia abbiamo usato... Questo è un problema legato alla democrazia e al fatto che non siamo in grado di comunicare con la popolazione le scelte che prendiamo, perché le prendiamo, come le prendiamo, i vantaggi che arrivano, i problemi che ne deriveranno perché nulla è a costo zero e questo è perché nessuno in questo momento ha fiducia nel sistema. Questo è uno dei motivi per cui è difficile fare qualunque cosa. Qui però emerge anche un tema di difficoltà di comunicazione fra dire e il fare, cioè di mezzo una serie appunto come diceva Luca Romano. Il problema è che funziona molto male, questo di mezzo c'è purtroppo, che ha educato i cittadini italiani a essere molto poco cittadini e finire purtroppo poi di nuovo all'interno di alcune dinamiche che ci hanno causato da una parte di prendere delle decisioni che se magari non avessimo preso sull'onda del chiaramente anche di un impatto emotivo importante avrebbero cambiato almeno in parte la storia italiana? Ci sta. Prendiamo atto del fatto che siamo domani nel 2024 e che il mondo del 2034 non è quello in cui viviamo ora e Luca so che ne è consapevole perché è abbastanza chiaro penso ne faccio comunicazione rispetto a questo anche sulla questione della crisi climatica e cosa ci aspetta ma visto che stiamo provando realmente a cambiare questo paese iniziamo a avviare questo discorso nelle condizioni reali in cui possa andrà a svolgere le cose stanno cambiando e molto più velocemente di quello che vorremmo e dobbiamo prenderne atto Vengo da lei solamente per una questione che mi sembra non secondaria il problema di comunicare di far percepire di far comprendere alla popolazione un cambiamento con tutti annessi e connessi questo insomma è un ruolo che nel futuro sarà importantissimo anche di fronte a queste scelte veniamo da una coppa che doveva diciamo così azzerare i combustibili fossili invece si è optato per una decisione cercobiotista di ridurli ma ci sono dei problemi oggettivi legati al fatto che stati di grandi dimensioni non hanno alcuna intenzione di abbandonare i fossili basta pensare ai grandi paesi emergenti e questo è un dato di fatto i petrolieri scusate abbiamo fatto la coppa col presidente petroliere più presa per il culo di così non so cosa dovevano fare però scusate su questa cosa qua con chi dovevamo farla cioè se continuiamo a suonarcela a cantarcela tra di noi noi possiamo decarbonizzare uscire dai combustibili fossili loro continueranno a usarli è evidente che se vogliamo fare un negoziato globale dobbiamo parlare anche con i paesi petroliferi e dobbiamo aspettarci delle resistenze è ovvio che questi cercheranno di rimandare oggi c'è stata l'inaugurazione dell'anno accademico e tra i passaggi della mia relazione c'è stato un riferimento all'Europa alle difficoltà di integrazione e allora ho detto una cosa è difficile mettere d'accordo un gruppo di individui di persone figuriamoci un conglomerato di Stato quindi se si pensa a risolvere questo problema su scala globale la vedo molto dura se vogliamo guardare ciascuno in modo tale da fare il possibile per non peggiorare la situazione allora andremo avanti ma se pensiamo di convincere tutti laddove ci sono degli interessi contro i quali è difficile combattere credo che sia una battaglia persa in partenza quindi questa idea che tutto il mondo si uniformerà a scelte vincenti sotto un profilo della transazione energetica secondo me almeno per decenni non sarà realizzabile lei non è idea di che mondo in cui vive mi spiace lei non ha idea del mondo in cui vive no no io sono molto concreto e realista non mi piace l'immaginario realizzabile a me quello che dispiace però questo voglio dire noi italiani facciamo quello che possiamo fare per carità facciamo le rinnovabili facciamo l'energia alternativa in un altro modo cerchiamo di tutelare l'ambiente io sono assolutamente favorevole a questo in conclusione l'ultima battuta con Alessandro Ciacchi Paolo torno nel mio perché tu l'avevi ben detto l'Italia ha abbandonato la divulgazione scientifica di massa da molti anni da almeno 20 anni mentre prima c'era e c'era in televisione c'era nei giornali c'era nelle riviste c'era nel sentore diffuso anche perché eravamo ancora un mondo un paese giovane adesso è un paese purtroppo di persone anziane siamo i più vecchi al mondo con il Giappone che non ce la fanno a guardare al futuro i giovani se ne vanno e i giovani invece come si diceva sarebbero interessatissimi a nuove fonti energetiche che vuol dire nuovo nucleare sarebbero interessatissimi a nuove forme di alimentazione per chi soffre la fame ancora una volta a guidarci sono Gates Soros Di Caprio quella è una divulgazione che arriva perché arriva per esempio attraverso il grande cinema sono tutti temi interessanti e mi sembra che su nucleare il grande problema non essere favorevoli o contrari o come diciamo così lasciare il mondo migliore di quello che abbiamo trovato superare la questione dei combustibili fossili ma c'è proprio un tema di divulgazione che dovrebbe andare dovrebbe ricominciare riaffrontare il sistema internazionale nel rappresentare gli interessi collettivi questo è un grosso problema è un grosso limite bisognerà affrontarlo pure questo tema insieme magari un'altra volta perché il nostro tempo stasera è finito io vi ringrazio in particolare Alessandro Cechi ci torniamo se vuoi con piacere con piacere davvero Alessandro grazie mille grazie a voi insomma non serve rappresentarlo grazie all'avvocato dell'atomo Luca Romano grazie Luca buona serata a voi e grazie anche a Tommaso Iuas portavoce di Ultima Generazione buona serata buona serata alla prossima noi invece adesso ci addentriamo già in una nuova chiacchierata in un altro argomento un argomento che insomma è sotto gli occhi di tutti nel vero senso della parola l'e-commerce è una realtà portata di smartphone di computer ma è anche forse un campanello d'allarme in servizio di Giulia Cavola era il 5 luglio 1994 e un giovane di Seattle fondava un sito web nel suo garage il futuro di quell'esperimento è ormai materia da libri di storia nasceva infatti un colosso del commercio globale una potenza che appare inarrestabile con un utile netto di 9,9 miliardi di dollari contro i 2,87 dell'anno precedente tante le ragioni dietro questo successo compresi alcuni fattori che quel giovane americano non avrebbe mai potuto immaginare lui che voleva semplicemente creare un negozio online Jeff Bezos non poteva immaginare che sarebbe arrivata una pandemia globale ad esempio l'umanità chiusa in casa e i corrieri carichi di pacchi alla porta neppure la crisi inflattiva era prevedibile con i prezzi costantemente a rialzo tanto da spingere chi acquista a cercare le offerte più vantaggiose anche su prodotti che prima avrebbe acquistato al negozio sotto casa eppure questi sono due dei fattori che hanno mutato radicalmente il panorama degli acquisti anche nel nostro paese dove lo shopping ha sostanzialmente cambiato forma migliaia di negozi stanno sparendo per il solo settore abbigliamento tra 2019 e 2023 se ne contano 9000 in meno i dati sono di unione camere e infocamere che mettono in luce come le regioni più colpite siano Lazio Lombardia e Toscana due le eccezioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige qui gli esercizi commerciali diminuiscono ma molto meno che nel resto d'Italia la fotografia restituita dai dati risulta così particolarmente importante nel periodo natalizio momento che storicamente registra i maggiori incrementi a livello di incassi quest'anno gli italiani spenderanno 223 euro a testa per i regali ma molti di loro li faranno online sul tema è intervenuta anche il presidente del consiglio Giorgio Ameloni parlando all'assemblea di confe esercenti voi siete dei presidi di sicurezza e di socialità il principale antitoto alla desertificazione delle nostre strade allo spopolamento dei nostri borghi in questo compito non potete essere ovviamente lasciati da soli insomma il tema è chiaro da una parte la necessità anche l'abitudine ormai di fare acquisti online dall'altra parte la categoria degli esercenti dei negozianti che si ritrova un pochino diciamo così spalle al muro noi entriamo in questa checchierata lo facciamo in compagnia del presidente di Feder Consumatori dottor Michele Carrus buonasera buonasera e in collegamento con noi per Assoturismo e Confesercenti con Rado Luca Bianca dottore buonasera buonasera a voi e abbiamo anche Dario Tana consulente e-commerce buonasera dottore buonasera a tutti allora io partirei da un tema da un tema che è riassumibile con alcune cifre nel 2023 gli acquisti online in Italia superano i 54,2% 2 miliardi di euro il che vuol dire se fosse un numero tanto per che sono un 13% in più rispetto a un anno fa e allora partiamo col dottor Carrus Presidente c'è un tema anche di consumi che ci siamo abituati ci siamo accomodati un po' sul nostro smartphone sui nostri computer beh in effetti noi assistiamo ad una esplosione soprattutto negli ultimi anni degli acquisti nel canale dell'e-commerce che sono sostanzialmente raddoppiati dal 2018 ad oggi in 5 anni passano da 27 miliardi circa di fatturato a 54 quindi siamo a un raddoppio nel giro di 5 anni e sicuramente una delle modalità attraverso le quali si fanno acquisti sull'e-commerce sono sicuramente i device portatili smartphone oggi per esempio si stima che un acquirente su due nei canali digitali utilizzi il device portatile mentre ancora nel 2019 non raggiungeva un terzo del totale il totale degli italiani che acquistano nel canale dell'e-commerce ha superato ha sfondato i 33 milioni di persone e di questi insomma 24 milioni 25 milioni sono acquirenti abituali quindi se escludiamo 9 milioni di acquirenti che fanno meno di 3 acquisti a trimestre noi abbiamo il 90% e più degli acquisti online che sono fatti da questi 25 milioni di italiani metà dei quali usa il device portatile lo smartphone e attenzione non sono soltanto i giovani a farlo ma sono anche le persone ormai i 46 anni diciamo gli ultra quarantenni quindi si è creata questa situazione in cui è diventato una modalità abituale di consumo l'utilizzo di questo canale e di questi strumenti per realizzare gli acquisti lei ha detto meno di 3 acquisti a trimestre e questo secondo me è un dato da cui ripartire Bianca insomma 3 acquisti a trimestre vuol dire che tra un po' non si scende neanche più sotto casa per comprare il pane eh sì questo in effetti è un tema che per compesi esercenti è estremamente importante perché noi storicamente rappresentiamo la piccola e media impresa soprattutto la piccolissima impresa e gli esercizi di vicinato ecco iniziano ad avere un rapporto abbastanza d'amore e d'odio insomma con queste piattaforme è in dubbio come diceva anche il presidente prima che oramai un italiano su due acquista abitualmente online e dobbiamo anche dirlo cioè le piattaforme online sono anche un grande mezzo e una grande opportunità per la piccola impresa certo è che bisogna un attimino livellare un pochettino la situazione perché può sfuggire di mano poi io mi occupo principalmente eh di rappresentanza sindacale nel settore del turismo e pensare oggi il turismo senza le piattaforme online sarebbe assolutamente utopia certo è che poi dopo però si nascondono tante tematiche tante problematiche di confittualità che andrebbero attenzionate insomma studiate con grande attenzione perché sono grandi mezzi ma possono anche essere dei grandi problemi per le piccole imprese abbiamo preparato delle grafiche allora vediamola con l'aiuto della regia prima di andare da Dario Tana perché perché riguarda l'e-commerce il settore e-commerce nel nostro paese abbiamo detto 54,2 miliardi di euro il giro d'affari in crescita del 13% rispetto al 2022 e come diceva anche il presidente Carrus il 48,2% degli italiani li ha utilizzati almeno nel 2022 vediamo l'altra perché questo è un tema interessante sempre Fonte Istat quasi il 20% quasi un italiano su 5 investe e compra in abbigliamento scarpe e accessori online uno su 10 praticamente compra articoli per la casa mobili e giardinaggio altri un 8,5% si occupa e si dedica all'acquisto di film o serie in streaming andiamo avanti con l'ultima gli utenti sono per la maggior parte uomini il 52,4% le donne sono il 44,4% ma soprattutto il 75,7% praticamente 3 su 4 sono giovani dai 20 ai 24 anni e attenzione altro dato interessante quasi il 60% sono residenti nel nord insomma Dario Tana lei si aspettava tutti questi dati in particolare a me ha colpito quello dei giovanissimi dei 20-24 anni sì mi aspettavo questi dati perché seguiamo quello che accade online ormai da anni e ogni anno succede proprio questo ci sono degli aumenti di fatturato che non vanno del 2-3% nell'arco di un anno ma qui si sale del 15-20 25-30 anno per anno e quello che è accaduto col covid è stato proprio una progressione che noi ci aspettavamo nell'arco di 4-5 anni quindi è successo qualcosa di importante perché chi non aveva ancora fatto un acquisto online chi ancora non si era avvicinato a queste tecnologie durante il momento del covid stando a casa un po' anche per forza ha provato a fare questi acquisti online e c'è stata questa esplosione molti di questi acquirenti sono rimasti a fare acquisti online non tutti sono tornati all'offline e su questo secondo me è proprio un po' da ragionare perché spesso si parla di questi dei piccoli negozianti che per carità io sono di Rimini quindi anche io giro per il centro storico e vedo negozi che aprono e negozi che purtroppo chiudono però diciamo che questa evoluzione ce l'aspettiamo insomma e purtroppo c'è da dire che molti piccoli negozi di quelli che purtroppo non riescono a dare un servizio simile o paragonabile a quello che c'è online purtroppo hanno una vita che è un po' destinata a un cambiamento per forza perché altrimenti il rischio è quello proprio di andare a chiudere cosa che vedo tutti quanti i giorni noi lavoriamo molto con le camere di commercio quindi cerchiamo di aiutare il più possibile le piccole realtà andare online e devo dire che in realtà quando vengono aiutate e quando gli si spiega come sfruttare i canali online molti riescono veramente a esplodere io ho aziende che hanno assunto personale non l'avrebbero mai fatto se non avessero avuto i canali online questo è un tema interessante l'online come possibilità Rettore Fortuna di crescere di far crescere il bacino di utenti del negoziante di mercato di quartiere io ho sentito tutte cose interessanti però bisogna prendere atto come è stato inizialmente detto dal presidente poi ribadito anche con altri particolari che è una tendenza è reversibile ma perché è reversibile perché offre delle possibilità che noi non potevamo nemmeno immaginare alcuni anni fa non potevamo immaginare nemmeno di avere i telefonini e adesso invece facciamo tutto con i telefonini e io stesso devo dire che spesso faccio acquisti online perché c'è comodità riceverli a casa non solo ma in molti casi l'organizzazione delle aziende soprattutto delle grandi multinazionali consente anche di avere consegne in dieci ore in otto ore la domenica mattina e magari hai bisogno di qualcosa che trovi subito online senza andarla a cercare e quindi sono tutte componenti che invitano e il covid ha dato un'accelerazione sicuramente notevolissima perché anche chi non aveva dimestichezza l'ha acquisita perché necessità fa virtù diventa difficile per un piccolo negozio competere da una parte con le commercial line e dall'altra con la grande distribuzione è un po' stretto in questa in questa morsa e secondo me le piccole imprese che hanno più possibilità di sopravvivere sono quelle che hanno delle attività talmente peculiari che sono difficilmente estensibili a questo mondo dell'online e in Italia ce ne abbiamo però perché il Made in Italy io penso a tante cose artigianali però anche lì quando vedono che c'è un vantaggio si organizzano con le vendite online che sono un po' differenti da un'attività organizzata al fine di fare questo tipo di lavoro diventa proprio il business aziendale l'abbiamo visto in tante occasioni però anche lì diventa uno strumento che consente di ampliare la clientela quindi credo che sia irreversibile bisogna coglierne i benefici e da noi dove la piccola e media impresa costituisce gran parte del tessuto imprenditoriale il problema c'è però questo è un tema che voglio riaffrontare tra poco facendo un girotavolo proprio su questo tema un minuto di pubblicità e poi torniamo ancora qua l'imprenditore e gli altri eccoci tornati secondo uno studio della fondazione De Gasperi i negozi di prossimità grazie alla vendita online hanno migliorato la qualità e la quantità dei servizi offerti un punto che io mi ero ripromesso su cui mi ero ripromesso di tornare Corrado Luca Bianca insomma l'unicum da una parte la necessità e la voglia di aprire e di allargare il ventaglio dei servizi potrebbero essere un punto di ripartenza per il commercio locale assolutamente allora oggi io ribadisco che parlare di esercizi di vicinato e di parlare di un mercato senza le piattaforme online è assolutamente utopia perché oggi come oggi è come diceva anche il rettore prima è impensabile non utilizzare più non utilizzare l'online ma soprattutto non dare questa grande opportunità alla piccola impresa l'unica cosa che noi sottolineiamo sempre è che c'è un grande tema che è il tema delle regole di ingaggio cioè nel senso c'è un tema anche di concorrenza e soprattutto c'è un tema di fiscalità cioè noi nel limite del possibile vorremmo che ci sia stesso mercato con stesse regole nel senso che è vero che c'è una competizione noi piccoli imprenditori piccoli e medi imprenditori non ci siamo mai sottratti alla concorrenza anche perché è il nostro pane quotidiano noi viviamo di concorrenza la concorrenza ci stimola a fare meglio ci stimola a stare sempre sul mercato con offerte migliorative e ci stimola a crescere però vogliamo competere anche con le stesse regole cioè noi piccoli commercianti e spesso e volentieri abbiamo una fiscalità veramente allucinante che non è neanche lontanamente panagonabile con la fiscalità che hanno le grandi piattaforme quindi benvenga le piattaforme benvenga questa grande opportunità benvenga anche diciamo la possibilità di fare acquisti online però noi esercizi di vicinato vogliamo competere con le stesse armi e quindi ecco sì è un tema anche molto delicato perché è un tema di concorrenza se poi alla fin fine noi ci troviamo di fronte spesso e volentieri a posizioni di chiamiamole quasi abuso dominante anche se è un po' forte quello che sto dicendo è un tema che insomma anche da punto di vista governativo va affrontato con una determinata sensibilità anche il prezzo vuole la sua parte per quanto riguarda un bene Presidente Carrus insomma sembra quasi di trovarci in difficoltà a tirar su la sala cinesca di fronte a come ha detto Bianca Bene concorrenza e fiscalità da una parte ma anche appunto la possibilità di offrire quel determinato bene a un prezzo più basso sì questo è sicuramente vero e sono sicuramente delle componenti importanti però ci sono anche dei dati che invitano a riflettere la chiusura dei negozi nei piccoli esercizi commerciali soprattutto nei centri cittadini è un fatto preoccupante molto preoccupante noi tra l'altro insieme alla Confesercenti ci siamo fatti anche autori di una ricerca a questo riguardo che aveva potuto valutare con molto apprezzamento come era stata positiva la condotta dei piccoli esercizi commerciali durante la pandemia quando offrivano i piccoli negozi di quartiere proprio un'assistenza soprattutto alle persone più anziane quelle più in difficoltà che erano immobilizzate in casa e da questo è scaturita poi anche una proposta di legge che è stata presentata nella scorsa legislatura in Parlamento da Confesercenti che prevedeva una serie di misure di sostegno proprio per la difesa dei piccoli negozi nei centri cittadini ora quello che accade è questo non chiudono solamente a causa dell'e-commerce anzi alcuni dati ci dicono per esempio che il 40% delle persone fa un acquisto online dopo aver visitato un negozio fisico ma attenzione però è esattamente il contrario il 40% verifica online il prodotto fa delle comparazioni dei prezzi e poi però va a comprarlo nel negozio fisico mentre un acquirente su 4 fa il contrario cioè fa l'acquisto online dopo aver fatto il giro dei negozi per verificare le caratteristiche precise del prodotto che vuole acquistare quindi esiste un saldo positivo semmai da questo punto di vista allora i piccoli negozi soffrono sicuramente della competizione dell'e-commerce ma hanno sofferto soprattutto negli ultimi 20 anni delle aperture dei grandi empori dei grandi centri commerciali fisici che sono diventati anche un punto di aggregazione nelle relazioni cittadine tra le persone sottraendo e ultimamente un colpo fortissimo ai piccoli esercizi commerciali lo sta dando il mercato delle locazioni brevi delle locazioni del turismo mordi e fuggi insomma e degli affitti di brevissima durata tutti questi fattori sicuramente concorrono a mettere in crisi e anche gravemente ora Confesercenti ha fatto una ricerca molto dettagliata ma anche Confcommercio dice che negli ultimi 10 anni noi abbiamo perso più di 100.000 esercizi commerciali nei centri cittadini allora qua si finisce per perdere identità per perdere caratteristiche culturali per diventare si rischia di diventare omologati agli acquisti e alle modalità che si trovano in modo uguale uniforme in tutto il mondo occidentale perlomeno nei grandi centri commerciali nella grande distribuzione organizzata la standardizzazione dei prodotti rispetto all'unicum una standardizzazione eccessiva che significa perdere quella dimensione che invece il piccolo negozio ti garantisce il chilometro zero il prodotto locale le tradizioni la cultura i saperi i sapori locali sono quelli che transitano e viaggiano ed entrano in contatto diciamo così con l'acquirente attraverso la rete dei negozi dei piccoli esercizi commerciali che ti danno un prodotto quindi di qualità anche superiore ecco perché la questione del prezzo diventa un aspetto significativo in una condizione di crisi ma c'è quest'altra dimensione che riguarda la qualità della vita nelle nostre città che merita invece misure appropriate di sostegno di studio di rafforzamento di cambiamento culturale vado un attimo da Tana proprio perché insomma questo dato che ci ha dato il presidente Carrus mi sembra quasi sorprendente rispetto alla nostra chiacchierata in apertura 40% delle persone acquista il negozio dove essersi fatto una ricerca online anche qui insomma per me è un vero e proprio colpo di scena non me l'aspettavo almeno rispetto a quello su cui si stava indirizzando la nostra chiacchierata allora c'è una fascia di prodotti che si acquistano online così arrivo proprio nel dettaglio che diciamo non hanno bisogno di alcun tipo di consulenza per cui immagino l'ultimo acquisto che avete fatto su uno dei marketplace più famosi e cito Amazon per metterne uno sono certo che uno degli ultimi acquisti che avete fatto se non l'ultimo sarà una cosa un cavetto un mouse un oggetto dove non c'è bisogno di nulla di più se non il prodotto e la velocità di acquisto perché mi arriva domani laddove invece io ho bisogno di un prodotto che ho bisogno anche di avere una consulenza nasce la voglia degli utenti di andare online a informarsi sul prodotto e poi fisicamente di andare in negozio a vederlo per vedere esattamente com'è poi se il negozio fisico è talmente furbo da attivare quello che si chiama omnicanalità cioè dare la possibilità all'utente di girare tanto in negozio fisico quanto nel negozio virtuale ecco che se io mi sono trovato bene nel negozio fisico posso comprare fisicamente lì oppure la sera dal divano quando sono le 10 di sera senza alcun tipo di problema la difficoltà che diceva prima il collega è giustissima questi centri storici e quando io li vedo chiudere i negozi è troppo facile dire è colpa dell'e-commerce per me non è così io sono a Rimini non chiudono i negozi per colpa dell'e-commerce anzi i negozi specializzati restano a Rimini e continuano ad avere la flotta di gente fuori vedi tutti i negozi di artigianato tutte le cose da mangiare tutti i libri particolari tutti i negozi che hanno qualcosa in più da dire tutti quanti gli altri purtroppo hanno questa questa situazione ma non ci possiamo fare nulla e fra l'altro se noi andiamo a vedere nei centri storici importanti come Rimini quanto costa un affitto per un negozio fisico io mi rendo anche conto che un negozio fisico preferisca chiudere il negozio di cento metri in centro prendersi un bel magazzino in una zona industriale e andare avanti col web direttore siamo diventati un po' il paese dello shopping mordi e fuggi diciamo ni però forse anche del turismo mordi e fuggi quello che ha fatto un po' perdere quell'unicum quella particolarità dei nostri centri storici il turismo ha subito un'evoluzione un po' per le difficoltà economiche quindi la perdita del potere d'acquisto alta inflazione questo riguarda un po' in generale tutte le attività io credo però che questa adesso l'espressione vuol dire che una volta per esempio si andava in vacanza per periodi più lunghi oggi si va in vacanza per periodi più brevi un po' per una questione di tasca ma credo anche che questo possa offrire la possibilità organizzandosi di fare delle vacanze frazionate nell'ambito del turismo e quindi io la vedo anche come una sorta di evoluzione positiva in questo senso e poi ho sentito da tutti cose molto interessanti anche spunti di riflessione che poi c'è un'attitudine al consumo che nasce dalle idee personali e dal comportamento del consumatore per cui ognuno poi personalizza non so io per esempio devo comprare un televisore mi faccio un'idea sulla rete poi però il televisore me lo vado a vedere perché voglio realmente vado nei grandi negozi e molte catene offrono la possibilità di acquisti ormai quasi tutte la maggior parte sia fisici che online allora che fai valuti però generalmente il prezzo online è inferiore oppure prezzo online paghi quel prezzo e ritiri il negozio e quindi ti esci a basso ma sono tante le valutazioni che poi il consumatore fa e credo che ognuno di noi le faccia e certo poi la rete oggi consente le cose tipo le comparazioni dei prezzi con quei siti comparatori che sono stupefacenti rispetto al passato di certo il rischio è di non trovarci appunto il negozio sotto casa vedevo però mentre parlava il rettore Fabio Fortuna Bianca che annuiva l'ultima battuta e poi ci dobbiamo salutare a lei sì allora noi siamo passati dagli anni 70 che purtroppo si facevano purtroppo per fortuna si facevano il tutto il mese di agosto in villeggiatura oggi come oggi trovare una famiglia che riesce a fare più di 3-4 giorni di vacanza è complicato da una parte come dice il rettore è anche un'opportunità per destagionalizzare il famoso tema della destagionalizzazione del turismo quindi anche quella può essere un'opportunità il tema anche che diceva prima il presidente degli affitti brevi è un altro tema su cui dovremmo fare innumerevoli perché anche lì è un fenomeno che sta trasformando completamente la sociologia e anche le nostre città perché stanno veramente creando problemi anche agli universitari perché oggi come oggi i ragazzi non riescono più a trovare una stanza in affitto perché a Roma a special modo sono tutti affitti brevi e quindi i nostri ragazzi per studiare vanno a Latina a Civitavecchia fanno avanti e indietro quindi anche questo è un tema estremamente importante che sarebbe molto assolutamente blocchiamo le agende perché ci rivediamo tra qualche settimana intanto io per quest'oggi vi ringrazio partendo dal presidente di Feder Consumatori Michele Carrus grazie presidente per essere stato qui con noi in studio grazie a lei e grazie anche a Corrado Luca Bianca a Soturismo e Confesercenti buona serata buona serata a voi grazie e grazie anche al consulente e-commerce Dario Tana buona serata Dario a presto grazie a tutti buona serata e adesso noi siamo arrivati in quel preciso istante nel momento in cui non lanciamo una sigla ma ne lanciamo due però partiamo dalla prima la classica la canonica prego piacere e allora con questo riff fra i più noti chissà dove dietro quale angolo si è nascosto il nostro Marco Antonellis buonasera Marco ciao buonasera buonasera a tutti buonasera e allora pronti via abbiamo promesso un'altra sigla è arrivato proprio quel momento andiamo squadra che vince non si cambia allora buonasera anche a Lorenzo Regiroli analista sondaggi BD Media buonasera 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 a tutti allora io partirei subito da una domanda bruciapelo per Marco Antonellis Marco ma c'è stato qualche contraccolpo sulla questione o meglio sulla maggioranza dopo la questione salario minimo trasformato in una legge delega ebbè insomma c'è stato sì comunque ma nelle ultime settimane di contraccolpi all'interno della maggioranza di governo che ne sono stati tanti io direi non solo rispetto al discorso del salario minimo che comunque era una battaglia che come sai anche i fratelli d'Italia anche Giorgia Meloni aveva condiviso negli anni passati tant'è che i fratelli d'Italia fece anche una proposta di legge in proposito per cui è inevitabile che ci siano stati dei contraccolpi e se continua così la maggioranza ce ne saranno ancora tant'è che i consensi come ci dicono un po' i principali sondaggi sono in calo per quanto riguarda i fratelli d'Italia in queste ultime settimane vediamo se anche Lorenzo Regiroli ha notato questa cosa con l'aiuto della grafica allora Lorenzo vediamo insieme che cosa è emerso se davvero c'è stato qualche contraccolpo ora premetto che io non sento in confia Antonellis quindi non ho idea di che cosa abbia detto perfetto allora cerco di rassumerlo io a Lorenzo Regiroli quello che ha detto il nostro Marco Antonellis ha detto che insomma questa sulla legge sul salario minimo era anche una battaglia all'epoca di fratelli d'Italia e che insomma qualche contraccolpo all'interno della maggioranza in particolare lo schieramento di Giorgia Meloni sembrava esserci allora vediamo insieme con la grafica e poi a te allora posto che si parla di una media media quattro settimane quindi gli effetti si vedono col tempo però effettivamente fratelli d'Italia nell'ultima nostra media dei sondaggi è in calo di tradecimi quindi un minimo di contraccolpo effettivamente c'è e soprattutto notiamo che è in calo anche la Lega mentre non sembra aver subito effetti collaterali Fratelli Forza Italia che anzi è data in crescita nella media dei sondaggi non ha subito contraccolpi la fiducia in Giorgia Meloni che è ancora in leggerissimo rialzo 41,8% ecco qui però ricordiamo che per molti mesi è stata in calo adesso c'è un rimbalzo nelle ultime 2-3 settimane Marco Tonelli secondo te quanto questa fiducia nel governo Meloni è frutto anche delle trattative della concordia che sembra emergere sulla linea Roma-Bruxelles? beh diciamo che serve per tenere la barra dritta ai conti del paese sicuramente fa bene a Giorgia Meloni perlomeno nel medio periodo e nel lungo periodo poi bisognerà vedere se porterà un reale cambiamento nelle tasche dei cittadini cioè arriverà il momento in cui i cittadini si faranno la fatifica domanda stiamo meglio o stiamo peggio rispetto al periodo ante Giorgia Meloni e lì bisognerà vedere quale sarà poi la risposta dei cittadini per ora tutto sommato sta andando bene perché qui c'è un calo ma non sono dei cali di consensi comunque rilevanti il problema sarà nei prossimi mesi sarà in coincidenza delle elezioni europee e quindi bisognerà attenderci lì eventualmente dei cambiamenti però adesso credo che sia prematuro parlarne e credo che la maggioranza di governo tutto sommato al di là della dialettica fisiologica e di altre cose che tutto sommato fanno parte della politica non vedo particolari motivi di crisi o scossumi diciamo che ci sono rettore delle soglie psicologiche Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia dopo diversi mesi sono scesi seppur leggermente sotto quel 29% su cui diciamo si erano abituati a veleggiare che segnale può essere? quando si parte da percentuali così alte è più facile scendere che salire questo ce lo insegna anche anche la storia mi sembra che ci sia una tenuta sostanziale salvo qualche aggiustamento questo vuol dire che i cittadini tutto sommato confermano le scelte che hanno fatto quindi ancora non c'è né una reazione positivissima né un appiattimento e un ridimensionamento per cui bisognerà aspettare degli snodi importanti per esempio uno snodo importante sarà quello del PNRR anche se del rientro del patto di stabilità quello sarà un altro snodo certo ma il PNRR sotto certi aspetti ancora di più perché sono state tante le critiche poi di fatto le rate del PNRR stanno arrivando regolarmente la riorganizzazione degli obiettivi è stata parata senza difficoltà all'Europa quindi per il momento attenendosi ai fatti il PNRR con tante riserve ma va avanti poi se non verranno fatti gli investimenti nel modo dovuto ovviamente quella sarà una responsabilità del governo ma fare discorsi a priori credo che sia a questo punto ecco perché poi tutto sommato tengono queste percentuali preoccupa un po' il processo di contrapposizione che nell'ambito della maggioranza spesso si verifica al momento però non vedo grandi grandi problemi di tenuta infatti Lorenzo Regiroli la maggioranza sembra insomma tenere duro nonostante le tensioni dovute alla convention sovranista di Matteo Salvini un paio di settimane fa in quel di Firenze ma comunque Forza Italia fa quest'oggi la parte un pochino un po' più muscolare quella che guadagna uno 0,3% in più non moltissimo però è significativo? Bisognerà vedere Forza Italia ha la grande incognita di essere orfana di Silvio Berltoni e per Forza Italia il grande banco di prova lo è un po' per tutti sarà quello dell'europea l'europea sono un po' le nostre elezioni di midterm quindi è qui che davvero si misurerà il consenso dei partiti e soprattutto il consenso anche confronti del governo perché le europee sono le uniche elezioni nazionali oltre alle politiche quindi lì davvero si vota in maniera abbastanza simile alle politiche posto che poi le liste non sono le stesse quindi veramente il test sarà quello che ci sarà a inizio giugno e tra poco con l'anno nuovo ci saranno credo anche un po' di novità dopo un periodo che è di grande stasi ne abbiamo parlato anche alcune settimane fa veniamo da un periodo in cui il consenso non si è modificato in maniera sostanziale ecco con l'anno nuovo potrebbe esserci qualche novità in vista delle europee a tal proposito sempre in previsione delle elezioni Marco Antonellis a proposito di questo 0,3% che guadagna la Forza Italia hanno destato qualche sopracciglia alzato un pochino le parole del leader forzista Antonio Tagliani che ha detto per le regionali stavolta ricandidiamo i governatori uscenti però mettiamo un blocco diciamo così no a chi si è candidato si potrebbe candidare per la terza volta insomma sembra quasi un affondo nei confronti di un governatore leghista in particolare beh lo è lo è sicuramente ma io credo che Antonio Tagliani abbia perfettamente ragione perché poi la democrazia è fatta di pesi e contrapesi la democrazia è fatta di limitazione al potere anche a quello della volontà popolare quindi limitazioni da un punto di vista qualitativo e quantitativo io trovo che sia giusto lo stop dopo due mandati per un governatore così come per un premier io credo che sia importante io penso che faccia male Zaia a dire sì ma la gente ci vota dobbiamo andare avanti ma è pure probabilmente anche Obama gli avrebbero dato un terzo mandato probabilmente anche Reagan e tanti altri ma la democrazia ha le sue regole bisogna evitare che si creino che si formino quelle che sono le cosiddette incrostazioni del potere che purtroppo ce ne sono e ce ne sono tante sia a livello locale che a livello nazionale quindi io credo che Antonio Tagliani stia facendo una battaglia sacrosanta la democrazia è fatta di pesi e contrapesi e bisogna rispettarli Un altro tema che rischia in conclusione andando verso la fine di agitare ancora un po' destra e sinistra ma anche all'interno dei due schieramenti fra maggioranza e opposizione rettore è la questione del MES ma insomma sto MES ci serve oppure è solamente materiale per alimentare per distrarre per distogliere l'attenzione da altro? ma il MES è utilizzato dal governo come strumento di scambio quantomeno ha intenzione di far leva sulla ratifica del MES per contrattare in termini di parametri che devono rientrare in vigore il primo gennaio ora l'Italia ha visto crescere un po' la sua forza contrattuale perché agli interessi italiani si sono uniti anche quelli francesi e spagnoli quindi la Germania rimane un po' isolata io credo che si arriverà a una soluzione i fatti ci diranno se il governo ha ben interpretato questa partita ratificare il MES non significa utilizzarlo quindi in ogni caso io credo che il MES l'Italia lo debba ratificare perché è l'unico paese che non l'ha ratificato e poi tutto il resto lo vedremo sul campo e vedremo anche se questa attività del governo volta a creare una possibilità di scambio con l'Europa avrà successo staremo a vedere io intanto per questa sera ringrazio tutti voi ringrazio Marco Antonellis grazie Marco come sempre buona serata grazie a te buona serata e salutiamo anche Lorenzo Regiroli sondaggista BD Media Rettore grazie anche a lei per essere stato in nostra compagnia l'augurio anche da parte mia a tutti voi di una buona serata l'imprenditore e gli altri dovrebbe ritornare con la formazione tipo già la prossima settimana buonanotte grazie a tutti